I gruppi consigliari di Forza Italia, Abruzzo Futuro e Nuovo Centrodestra hanno annunciato all'emiciclo una dura battaglia ostruzionistica contro il regolamento sulla compartecipazione ai ticket per le prestazioni sociosanitarie, da oggi in discussione in Commissione Sanità. Un provvedimento che secondo i gruppi di Centrodestra rischia di distruggere le garanzie sociali per i cittadini inutenti e di mettere in ginocchio le finanze dei comuni. La Regione, ha spiegato il capogruppo di Forza Italia, Lorenzo Sospiri, non pagherà più le rette degli istituti e delle cure connesse alla non autosufficienza, ma solo una quota ipotizzata dell'80%, senza precisare con quale copertura finanziaria. Il restante costo resterà di competenza dei comuni, che però si troveranno a dover anticipare soldi senza disporre di fonti erogati sulla base di una programmazione. Del patto siglato con gli elettori, con il programma elettorale, il centrosinistra, nel maggio scorso anno, non ha detto ai cittadini abruzzesi che se ci votate inseriremo i ticket, vi faremo pagare le prestazioni sociali. E quindi insomma non ci sembra un'operazione corretta, ci sembra un'operazione in danno di tanti cittadini, soprattutto dei più deboli, quindi ci opporremo in tutte le forme in cui sarà possibile. Abbiamo anche 11 emendamenti realmente migliorativi che ci farebbero assomigliare di più ad altre regioni, come la Toscana e Emilia Romagna, potrebbero essere anche dei modelli per il governo regionale abruzzese. E poi insomma se sarà necessario faremo anche un forte ostruzionismo. E' previsto incredibilmente un prelievo forzoso dell'80% delle pensioni, quindi lasciando al pensionato solo il 20% delle sue risorse economiche, ci sembra veramente una... Insomma è come fare una nuova Equitalia in radice quadrata qui in Abruzzo. Non ci rendiamo conto, se questa è la rivoluzione dei servizi sociali e dei servizi sociosanitari che è stata tanto sbandierata, forse sarebbe meglio non toccare niente.